Bella ragazzi, sono Cipito Best Player e oggi sono qui con questo nuovo video Ebbene sì signori, sono le 6.17 di mattina Non so se si vede qualcosa Comunque, perché oggi si va all'Expo Appena arrivati, allora, guardate qua il parcheggio Figata assurda, si incomincia Signori, siamo arrivati Guardate qua, Nutella, Perrero, dopo qua cosa c'è? Col di retti E in fondo c'è anche l'albero della vita Ora signori, qua c'è l'Equador Poi Casa Don Bosco, mamma mia Importantissima la Casa Don Bosco Di fianco c'è la Slovenia Con, con, non ne capisco E questa è l'Arca di Noè Possiamo, chi è questa? Questa è l'Arca di Noè secondo me Cile, questo è Cile Bello, bello, Cile è bello La Germania, con la Merkel lì in fondo Bellissimo comunque Comunque adesso si punta subito al giapponese Perché si prevede tanta gente Anche se non ce n'è tantissima Come potete vedere È tranquillo fino adesso Però sono solo le 10 e mezza passate 40 minuti di Koda Benissimo Questa è la mia giornata Questa è la mia giornata Questa è la mia giornata Pavilione Monaco Pavilione Monaco Pavilione Monaco Formato da container Più di un'ora ma siamo riusciti ad entrare alla fine del giapponese Pavilione Modacchi Triple mentale signori qua Tanti piatti ed è un triple mentale Guarda che roba E' la marihuana E' la marihuana Guardatelo E' riso E' riso E' riso E' riso Secondo me il touch non funziona tanto bene E' Matrix Si possono fermare le cose Anche le immagini Il touch screen funziona bene Vi dicevano Non funziona Vi dicevano che non gira E' peggio dell'iPhone Questo è il ristorante futuro Abbiamo preparato per voi Diverse specialità Benvenuti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti E' peggio E' peggio E' peggio Il testo è molto più facile. Secondo il testo, all'inizio di farce di 2 minuti. Taccino al video. Proviamo! Vedi a un cuore il tavolo più veloce. Proviamo! Il tavolo più veloce, il cuore lo andé! Il risultato è quello di terni. Carmi! Cominciate a selezionare il vostro alimento preferito, poi, passando alla pagina successiva, selezionate la vostra stagione preferita e, infine, diteli qual è la vostra zona di provenienza. Ricordo a tutti di tenere le pavimentate all'occhio, se vuoi che sono schermo, se siete riusciate a prendere le vostre coordinazioni. Il vostro tempo di posizione è scambio e vedete che ti arriva il vostro grafico. Ricordo tutti gli amici e lavorerà per noi quali sono i vostri risultati oggi e ci dirà quali sono i più risultati generali dei clienti di ristorante in futuro. La nostra stagione preferita oggi è al 44% l'estate e a prendere il sole e il mare, qui invece è al 49% la paritetta preferita per me, un totale di 260 mila e 648 riscatori che, come voglia, da preferita generale, estate e pesce. Stiamo appoggiando i nostri ingredienti alla primavera. Questi piatti sono molto buoni da mangiare, ma sotto a tutto, belli da vedere. Guardate, che meraviglia! Prima di mangiare, per ringraziare, noi vinciamo mitana cima, ripetetelo dopo di me, mitana cima, mitana cima. Bravissimi, tocate i piatti con le pazienti, per poter riconoscere il meglio. E ora, prepariamo il fratto al sacco e partiamo! Sì, voi! Siamo fruggero, che abbiamo verso l'estate! Uuuuh, questo l'estate! Sì, guarda, sono! Assaporato questo piatti di ciò, adattere prima caldo e apposso, doniamo di un bellissimo panorama! Sì, ma che bella è per il yuki! E questa è, in Qeskima tradizionali sono un pollo divertente, non ciò che sia l'estate! Prossimi e il piatto spettino di alla fine da qualche area cosa che mi hanno faccio, che si senti. Sì, guardate! Vi torni alla cucina su文ke, scicchi! Uh, beh le provate! Saki-zuke, a mousse-bush, servito come pre-antipasto. Hassun, antipasto di stagione. Muko-zuke, sashimi. Futa-mono, pietanza calda e inumido. Cucina-hoshi, intermezzo rinfriescante. Yaki-mono, piatto alla griglia, di solito a base di pesce. La cultura gastronomica camponese, attraverso l'influenza di altre fucine, sia tradizionali che internazionali, può finirla a evolversi in modo originale. Il Giappone, rispettando gli uffici di dell'anomia, condiviamo la relazione con gli altri popoli, con la natura e con le generazioni del futuro. Ringraziamo per aver visitato il ristrante futuro. Speriamo di rivedervi presto. Arrivederci. Allora ragazzi, il padiglione, quello giapponese, è il mio preferito fino adesso. Ne abbiamo visti due, però è fantastico quello giapponese, perché oltre comunque a esserci come sempre il cibo, siccome l'expo è quello dell'alimentazione, alla fila dell'alimentazione, comunque c'è anche il ristorante del futuro, cioè sfrutta tanto anche sulla tecnologia avanzata, perché insomma c'erano delle robe assurde, e in più anche che cos'è che trattava, beh l'effetto sero e quindi il riscaldamento globale, quindi comunque veramente, ve lo consiglio se venite all'expo andate a vedere sicuramente quello del Giappone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.